Ciao ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi andremo avanti Andiamo a concludere il mese di ottobre Affrontando la partita contro il Fortuna di Wisterdorf Poi arriveremo a novembre Dove avremo una doppia sfida Contro l'Hannover ovviamente in campionata E poi ragazzi l'importantissima partita Di coppa contro L'Osnabruck Vabbè chiaramente con i nomi in tedesco Faccio Molta difficoltà Comunque ragazzi chiaramente veniamo da un passaggio Del turno addirittura contro il Leverkusen Quindi ragazzi è ovvio che adesso non ci poniamo limiti E' normale pensare di riuscire a battere Anche l'Osnabruck Quindi ragazzi vediamo un po' Cosa deve succedere oggi ma come sempre Prima di iniziare vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati E per continuare a supportarmi Anche a commentare qualsiasi vostro dubbio Consiglio perplessità a seguirmi sulla pagina Instagram a sostenere il canale tramite un abbonamento Ed una donazione Detto ciò ragazzi direi che possiamo andare subito In campo la formazione l'ho preparata già E' quella migliore possibile visto che Non ci serve fare turn over Magari nella partita successiva qualche cambio si può fare Visto che poi c'è la partita di Coppa Che è molto molto ravvicinata Come sempre non mi ricordo ma per sicurezza Fatemi vedere se qua ho piazzato tutti Invece no perché c'erano tanti giorni per riposare Ok meno male che mi sono ricordato Quindi facciamo così E direi che possiamo scendere in campo Ci sono tutti perfetto Partita contro il Fortuna Düsseldorf Che secondo me non è manco un avversario così scontato da battere Quindi vediamo un po' che cosa faremo quest'oggi Vedo delle faccine un po' tristi Speriamo vada tutto bene Visto che ragazzi siamo già primissimi in campionato Occhio ragazzi subito Bamba Qua è passato bravissimo Bamba bella giocata Poi va anche a calciare col sinistro Qua va quasi a botta sicura Ma arriva l'ottimo intervento difensivo Che ha avuto un gran tempismo Occhio ragazzi Marino bravissimo ad inserirsi E poi serve un cioccoladino a Momolu Che davanti al portiere si fa improntizzare Non riesce a metterla dentro Clamorosa occasione ragazzi Per passare in vantaggio e sbloccare la partita Parla dentro di Benedetto Momolu col sinistro Stavolta non sbaglia Spiazzato addirittura il portiere 1-0 Siamo in vantaggio qui in casa del Fortuna Segna ancora Momolu ragazzi Che sta avendo un momento di forma veramente strepitoso E oggi è qua ragazzi È tutto buono Non è fuorigioco E arriva il pareggio del Fortuna Alla prima azione Al primo tiro in porta Qua credevo sinceramente che fosse avanti Rispetto ai nostri difensori L'attaccante evidentemente non era così E ci facciamo infiocchettare malamente E subiamo subito il gol del pareggio Anche se ragazzi Secondo me È un gol decisamente immeritato Ma soprattutto perché A noi l'1-0 ci andava stretto Quindi figuriamoci L'1-1 Ma Bamba rimette immediatamente Le cose a posto Ovviamente primo gol lì per il tizio In campionato Ci mancherebbe altro Adesso ricominciamo anche con questa storia Comunque ragazzi Meglio così 2-1 Siamo subito di nuovo avanti Bravissimo Bamba Che sfrutta il kick-off E termina anche il primo tempo 2-1 per noi all'intervallo Siamo secondo me decisamente dominando Anche le statistiche dovrebbero dire questo Infatti un singolo tiro per il fortuna Hanno trovato anche il gol Quindi ragazzi È una partita molto strana Molto particolare Che potrebbe complicarsi Da un momento all'altro Quindi facciamo attenzione Mamma mia ragazzi Che bella azione Che bella azione 3-1 Sono stati in silenzio Per farvi Per farvi godere al massimo Non è vero Stavo sbadigliando Scherzavo però Diciamo che sono stati in silenzio Per farvi godere al meglio Questa bellissima azioncina Con l'ultimo tocco finale E poi il tiro di prima intenzione Di Bamba 3-1 Arriva il gol Bene così ragazzi Doppietta Per l'ex Dortmund Allora ragazzi Ho dovuto mettere un attimo in pausa Problemi tecnici Purtroppo è arrivato il gol del Fortunia Contro Kikov Praticamente Qua Gol veramente brutto Sul primo palo Qua Kekchen Poteva fare secondo me Qualcosina in più Copre malissimo il palo Diciamo Sono questi gol che Ti fanno dire Ma come cavolo sono programmati Questi portieri Comunque ragazzi 3-2 Ve l'avevo detto Che era una partita strana Quindi cerchiamo Di fare veramente tanta attenzione Però ragazzi Occhio Il contro contro Kikov Stavolta arriva la parata Del portiere Ma sarà a calcio d'angolo Oskan ragazzi È nel nostro Occhio ragazzi Ancora Bamba Appoggio Shrek Dentro Bellissima Durambilla Per il 4-2 Che ci voleva ragazzi Dai Proviamo ad allungare Un'altra volta Doppio vantaggio Segna Durambilla Comunque ragazzi Occhio i giocatori Sono molto molto strani Ma proprio il Sembrano dei poligoni No? Dei poligoni di gioco Va bene ragazzi Non ci facciamo caso Purtroppo Ormai Nulla più senso Comunque 4-2 Segna Durambilla Che appunto Continua a segnare Anche lui Con una certa continuità Ragazzi Poi andare avanti Shrek Shrek Bravissimo Bravissimo Shrek Però poi Non inquadra Lo specchio Della porta Peccato ragazzi Comunque Saper finire Anche la partita Non c'è stata La possibilità Di fare le sostituzioni E non le facciamo adesso Mettendo Bappé Al posto di Di Benedetto Ulrich Al posto di Shrek Shrek Scusate E poi Sonko Thomas Scholz Che è tristissimo Scholz Cosa stai passando Qual è il problema Ti prego Non ti lamentare Perché Non voglio problemi Di questo genere Anche In queste partite Cioè Comunque In questi In questi Casi Dove alla fine Tu giochi sempre Mi raccomando Comunque ragazzi Qua vale improvvisa Ottima per Thomas Che può subito Mettere il suo sigilo Ma arriva una clamorosa Parata del portiere Che poi Tra virgolette Fa sbattere il pallone Sul palo E non riusciamo A trovare il 5-2 E tra l'altro Ragazzi Doveva Dovrebbe Essere Anche L'ultima azione Portiere Ti prego Ok ragazzi Albitro che dici Ce la facciamo Ok finalmente Finisce quella partita Bella vittoria Era 4-2 Contro una squadra Che come immaginavo Non era così semplice Da affrontare Però ragazzi 4-2 Si continua A volare Ragazzi Scusate un attimo Una perplessità Qua mi dicono Non state seguendo i piani Va bene Allora acquista due giocatori Con un ruolo cruciale E importante Per rafforzare La rosa Perfetto Allora io Bamba E Durandville Quando li ho comprati Scusatemi Cioè Tutto il bene Allora Bamba Che ruolo ha Importante Quindi dovrebbe andare bene Durandville Che ruolo ha Cruciale Peggio ancora E l'ho comprati quest'anno Ovviamente Ma centrocampo Mbappé Turnover Vabbè Turnover Replica Tu che non me l'hai calcolato Non si sai perché Lo so io perché Perché è un gioco Programmato Con il culo Comunque ragazzi Dai Andiamo in campo Contro la Nover Ci sono dei cambi di formazione Potete già In intravedere Qualcosina da qui Cercate di fare Tipo un cambio Per ruolo All'incirca Per poi avere La squadra Abbastanza riposata Per la partita Di coppa Comunque ragazzi Come detto Cioè Come visto Più che altro Che action fra i pali Poi Marino Chiarote Abilcai E Lanner In difesa Quindi si è Riformata La difesa dell'anno scorso Con Mbappé Wohl e Schreck A centrocampo In attacco Bamba Thomas E Scholes Che così Gioca pure Visto che dice Che è triste Vediamo un po' Di risolvere Questa situazione Occhio Bamba No ragazzi Che peccato Qua Siamo stati bravissimi A rubare A recuperare un pallone Proprio nell'aria Di rigore Qua bravissimo Bamba Molto Molto cinico Da questo punto di vista Ma molto meno Nel mettere il pallone in porta Infatti è uscito Un tiro Disastroso A dir poco E occhio Schreck Gli tocco Per Scholes Che è più veloce Può andare Riesce a calciare Cosa ha fatto il portiere È tutto buono ragazzi Gol di Thomas Non ho capito Che cavolo è successo Perché il pallone Cioè perché il portiere Ha preso il pallone Con il piede Non L'ha bloccato con le mani Non lo so Comunque 1-0 Segna Thomas si è confusa Anche la telecamera Qui Comunque allora Qui C'è come se avesse fatto Un altro passaggio Il difensore Perché non si capisce Se sia stato effettivamente Scholes A calciare Oppure il difensore Ragazzi voglio capire Perché veramente Sembra che l'abbia presa Sembra che l'abbia presa Più il difensore Rispetto a Il mio caro Il mio caro Scholes Infatti qua ragazzi Si vede benissimo Scholes qui Sta caricando il tiro Ok Vediamo un po' Anche il difensore Sta caricando La conclusione Sì ragazzi Scholes tira molto dopo Infatti sì Cioè l'ha calcolato Come retropassaggio Però ragazzi Ti ritrovi un pallone Del genere Non è mai Retropassaggio Comunque ragazzi Non ci facciamo caso Ricordiamoci dove siamo E festeggiamo Questo 1-0 Ecco ragazzi Bamba Può andare Bamba Riesce a passare Dentro Bamba Prova anche Il tiro a giro Però Che va a finire Sul primo palo Arriva La parata Del portiere Ziller Comunque ragazzi Lì era rimasta Impressa la schermata Lì quando fa il rinvio Con il portiere Marino Finalmente Marino Da calcio d'angolo Finalmente Riesce a trovare Il gol 2-0 Bene così Il nostro torsino italiano Riesce a mettere dentro Da calcio d'angolo Dopo tanti Ma tanti Tentativi Dopo tanti errori Dopo Tanti lisci Dopo tante respinte Arriva Finalmente Il colpo di testa Vincente 2-0 Ecco Thomas Thomas Buono L'appoggio Scholz 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 Bella la fin Va anche a calciare Aveva fatto tutto benissimo Ottima giocata Veramente bella Però arriva Arriva Niente Arriva il tiro fuori Più che altro Ecco ragazzi Finisce come anche il primo tempo 2-0 per noi all'intervallo Ottima partita Da parte nostra Abbiamo rischiato Giusto praticamente nulla E cerchiamo di portare a casa Anche questa E occhio Bamba Può manzare Bamba Vediamo un po' Se riuscirà a fare La sua solita giocata Sembra di si Va anche sul primo palo E a proposito di palo Prende il palo Poi ancora una volta La palla che rimane lì Che giornata strana oggi Comunque 3-0 Segna Scholz Palla che rimane Letteralmente lì Scholz Deve semplicemente Appoggiarla in porta Visto che È completamente Sguaranita con il portiere Che era rimasto a terra Qua Guardiamo il clamoroso Palo di Bamba Poi Attimi concitati Portiere che Si rituffa Non capendo bene Il perché E arriva appunto Il 3-0 Volevo fare i cambi Volevo fare i cambi Che stupidino Che sono Comunque dentro di Benedetto Rebiger Momolu Sonko E Durambil Speriamo che Me li faccia fare Questi cambi Speriamo che la palla Esca subito Così ci sarà spazio Un po' per tutti Occhio Durambil Appoggio dentro Bellissima Momolu Appena messo in campo Non può sbagliare Arriva il gol Del 4-0 Ragazzi Momolu potrebbe Veramente consacrarsi Quest'anno Spero che sia Un giocatore Che possa Continuare a crescere Soprattutto dal punto di vista Dell'overroll Perché Questo qua Con questi ritmi Veramente Meriterebbe Di diventare un 90 Sinceramente Soprattutto Quanto sarebbe bello Portarsi un attaccante Che ha Della prima stagione Più avanti possibile Comunque ancora lui Che va dentro Del Benedetto Che calcia L'area Il pallone Viene tolto Proprio all'ultimo E qua Anche l'opportunità Del pocherissimo Che forse Potrebbe Ripresentarsi Subito dopo Invece no Perché l'annover Si salva A sto punto Facciamo scorrere Gli ultimi attimi Che rimangono Di questa partita Con Il Con l'annover Che proverà A fare qualcosa Ma non ci riuscirà Vero Invece è passato Non subiamo gol Subito gol Niente Mi dispiace Per il clean sheet Di Gercchen Sono proprio quei gol A tempo abbondantemente Scaduto Che danno un fastidio Clamoroso Comunque ragazzi Vabbè Arriva Un'altra vittoria 4-1 Eh Bisogna proprio Migliorare su quello Secondo me Sul Sul subire meno gol Praticamente Ok ragazzi Momento della coppa Partita molto importante Terzo turno Di DFB Pocale Che sono gli ottavi Quindi qua la dirigenza Dovrebbe essere contenta Felice Soddisfatta Speriamo bene Comunque A sto punto Ragazzi L'appetito Vi è mangiando Abbiamo eliminato Una superpotenza Come il Leverkusen E' ovvio Che non possiamo Temere Lo Snabruck Che addirittura Dovrebbe essere In Bundesliga 3 Quindi ragazzi Secondo me L'avversario Che dovremmo Spassar via Abbastanza tranquillamente Comunque ragazzi Berens Fra i pali Poi Oppie Krober Bambe Cagliude Di Benedetto Rebic Ruric Al centro campo Appena attacco Sonko Momolu E Durambil Ah tra l'altro ragazzi Una cosa che non ho menzionato Quest'oggi Il capitano E' Momolu Che sicuramente ragazzi Merita di Portare questa fascia Alla fine L'anno scorso E' stato molto importante Subito Durambil Che prova A metterla dentro Ma arriva La gran parata Le portiere Ragazzi attenzione Caccio di punizione E' qua molto interessante Per noi C'è Rebic Sul pallone Che proverà A metterla Dentro E ci riesce Bellissimo Goal Da parte di Rebic Punizione Bellissima Ragazzi Hai visto subito Che andava Precisamente lì Ma è a credere Che Rebic Riuscisse A cacciare fuori Questo coninghio Dal cilindro Guardiamo qui La bellissima punizione Qui Col destro Palla che si abbassa Palla che si abbassa Proprio al momento giusto Molto bene So contento Ecco Momolu C'è spazio qui Durambil Durambil Bravissimo Il sinistro di Durambil Troppo centrale Palla che rimane lì E il portiere Blocca in due tempi Ecco ragazzi Momolu Bellissimo L'appoggio Urrik Che ha la grande opportunità Qua bellissima azione Bella giocata proprio Ma La palla va troppo alta Ecco ragazzi Che a primo tempo Potentemente è scaduto Lo Osnabrück ha l'opportunità Di battere questo calcio d'angolo Ma Sunco riesce A liberare E soprattutto Finisce anche il primo tempo Molto bene ragazzi 1-0 per noi Siamo in vantaggio Grazie a Reviker Abbiamo avuto anche qualche chance In più per raddoppiare Però Tutto sommato È ancora tutto in equilibrio Paglione avanti Durambil 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 Può andare Durambil Durambil Prova a calciare ancora una volta Ma Non riesce mai a calciare bene Secondo me Durambil Non riesce a essere preciso Come vorrebbe Comunque Siamo qui in avanti Sunco Che oggi si è visto poco Vediamo un po' Se riesce a mettere Si mostra E direi proprio di sì Che gol di Sunco 2-0 Mamma mia Ancora con la numero 9 Effettivamente Devo cambiare i numeri Dei nuovi acquisti Ci vuole Ce n'è senso È passato già un sacco di tempo Comunque 2-0 Che gol che ha fatto Sunco Sempre più vicini ai quarti di Coppa E guardiamo qui Questo gioiellino dello svedese Posizione molto molto centrale Quindi è ancora più complicato Ma Come gira il pallone Che gol Oh c'è un momolu Possiamo andare Momolu Buono l'appoggio Per Sunco Può andare Sunco Sunco Al destra Vai in avanti A cercare Ulrich In una strana posizione Buono l'appoggio Per Momolu Che la lascia lì A Durandville Che in qualche modo Riesce a tenere il pallone Tocca ancora dentro Rebiker A cercare Di Benedetto Che subisce fallo Secondo l'arbitro Fallo che sinceramente Non ho visto Al massimo L'ho attirato a terra Ma Là per là Non l'ho percepito Guardiamo un attimo Ma ha usato La gamba sinistra Ci può stare Come non ci può stare Comunque ragazzi Rigori Cioè Rigore Uno Però prima voglio fare i cambi Perché è arrivato il momento Anche se ho la squadra Particolarmente stanca Quindi L'unico cambio che posso fare È mettere Urla Praticamente E mettiamolo a posto di Ulrich Che è stremato Dai Anche perché poi Manca veramente poco Alla fine di questa partita Comunque Facciamo battere Momolu Che oggi da Capitano Potrebbe essere Veramente una bella soddisfazione Per lui Trovare il gol Momolu Spiazza il portiere E trova il gol Del 4-0 Bene così ragazzi Ottimo direi Poker Schiantato Anche l'Osna Brook E siamo Ai quarti E tra l'altro ragazzi Una cosa che ci terrei a dire Ma che adesso Andremo anche a controllare Noi adesso siamo Ai quarti Ma abbiamo Un tabellone Molto particolare Perché ragazzi Abbiamo visto Nella scorsa puntata Che tantissime big Incluso il Bayern Monaco Sono già uscite Quindi ragazzi E' veramente Quest'anno Una coppa Molto particolare E effettivamente Secondo me Non vi dico Che ce la possiamo giocare Ma poco ci manca Comunque ragazzi Finisce quella partita 4-0 Bella vittura La partita Praticamente Mai in discussione C'è lo stoccard Per vedere che perde Con lo Schiacke 04 Schiacke 04 Che dovrebbe essere salito In Bundesliga 1 Quindi ragazzi Adesso andremo a vedere Il tabellone Nel dettaglio proprio Allora ragazzi Allora innanzitutto Andiamo giusto Qualche giorno avanti Diamo un'occhiata Al calendario Ok adesso Partire con il Magdeburg Poi il Paderborn Poi c'è una piccola pausa E si torna direttamente A dicembre Dove avremo Di nuovo la Coppa No invece no Campionato 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 Coppa Hamburgo ragazzi C'è Capite che effettivamente Le squadre sono particolari Abbiamo Armina Bielefeld Hamburgo Che sono due squadre Di Bundesliga 2 Schiacke 04 Wolfsburg E due squadre di Bundes Ok Offenham Friburgo Anche in questo caso Colonia Verder Brema Ok ragazzi Ho capito che ci sono due squadre Perché se non sbaglio L'Hamburgo Dovrebbe essere il nostro campionato Oppure È salito No No ragazzi Anche L'Hamburgo Evidentemente è salito Però ecco Adesso per curiosità L'Hamburgo Che si trova Alla 14esimo posto Quindi sono tutte squadre Che sono in prima divisione Siamo l'unica squadra Di Bundesliga 2 Però ragazzi Ecco Dortmund non c'è Le Percuse Non c'è L'Ipsia Non c'è C'è il Wolfsburg C'è l'Offenham Se non sbaglio Il Colonia Quindi ragazzi È una Coppa molto particolare Sicuramente siamo la Cenerentola Però Io penso che ce la possiamo giocare Intanto ragazzi Quanti gol hanno fatto I nostri attaccanti Quindi ragazzi Direi che per oggi Possiamo fermarci qua Abbiamo anche visto che Nella prossima puntata Avremo Le ultime due partite Del mese Di novembre E poi a dicembre La partita Contro il Norimberga In più Visto che ci siamo È giusto vedere Anche la classifica Siamo sempre più primi 32 punti 7 punti in più Rispetto all'Ossian Kill Secondo 8 rispetto al Bogum Terzo Che effettivamente Bisogna guardare Prima il Bogum Visto che L'obiettivo deve essere Una promozione Diretta Però ragazzi 10 col subiti Per una squadra forte Come la nostra Che ancora deve perdere Una singola partita Sono tanti col subiti Certo A volte in situazioni strane Però comunque Sono 10 col subiti Comunque ragazzi Come detto per oggi Posso formarmi qua Come sempre Vi invito Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram A sostenere il canale A temi dell'abbonamento E ad una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima